Cura del ferro, TPL e integrazione dei trasporti al centro della giornata organizzata dalla Regione Toscana al Teatro della Compagnia di Firenze per fare il punto sul piano regionale integrato delle infrastrutture e mobilità che tra 2014 e 2020 ha segnato oltre 3 miliardi e 850 milioni di euro. Tra le principali opere in Toscana e lavori per le terze corsie dell'autostrada 1, il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca e il nodo dell'alta velocità ferroviaria a Firenze, questione discussa anche con il neo sottosegretario alle infrastrutture Michele Dell'Orco con il sottoattraversamento che per l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli va fatto lasciando i treni regionali in superficie separandoli da quelli dell'alta velocità. Abbiamo chiesto da RFI di studiare una soluzione che oltre al nodo fiorentino sia in grado di separare il flusso dei traffici prima di arrivare a Firenze quindi con una sorta di raddoppio della direttissima a partire dal Val d'Arno perché il nodo di Firenze è un nodo che non solo penalizza il traffico ferroviario regionale ma è un nodo che intoppa un po' rallenta il traffico ferroviario nel paese. E mentre si attende il parere della Commissione Ministeriale sulla partenza programmata il 30 giugno della linea 3 della tramvia fiorentina per il trasporto pubblico su gomma con il contratto ponte prosegue il rinnovo del parco bus con 400 mezzi e arriva l'adeguamento dei costi dei biglietti in aumento quegli urbani ma con la previsione di abbonamenti a prezzo agevolato. Nell'urbano di tutti i capoluoghi di provincia regionali si pagherà 1,50 euro che fra l'altro è una cifra già in vigore in molte città italiane, nel piccolo urbano si pagherà 1,20 euro c'è anche una omogeneizzazione per quanto riguarda le tariffe dell'extraurbano che hanno preso a modello le tabelle chilometriche del treno. Sul tavolo anche il monitoraggio della puntualità dei 100 treni più frequentati e la mobilità ciclabile a cui dal 2017 sono stati destinati 2 milioni 810 mila euro perché infrastrutture efficienti dati IRPET alla mano sono anche un volano di crescita con un impatto stimato sull'occupazione corrispondente a una media annua di 10.000 unità di lavoro.